Vi dico che la canzone che rappresenteranno è niente po' di meno che la donna è mobile. Signore e signori, sono i ragazzi di AC Carpenedolo. Signore e signori, questa sera qui a Carpenedolo, indifferita da Palazzo Tè di Mantua, abbiamo l'onore di presentarvi il maestro Trombettini, che dirigerà l'orchestra della scalinata del castello. Si esibiranno i tenori Tullio, Duilio e Armando Figaroa. Nella famosa aria, la donna è mobile, strata dal capolavoro di Giuseppe Verdi, Rigoletto. A voi tutti, buon ascolto. Grazie. 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 E cos'è questo? Che casino è? Cos'è questo casino? Cos'è? I tre tenori? I tre caproni? Siete? I tre caproni? Andate dietro qua. Via 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 via. Tre caproni. Paggio 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 P E' un po' è di pensieri, è di pensieri, è di pensieri. E' un po' è di pensieri, è di pensieri, è di pensieri, è di pensieri. E' un po' è di pensieri, è di pensieri. E' un po' è di pensieri, è di pensieri. A Ciccarpenevolo! Scusi, scusi, abbia pazienza un attimo. Scusi, nome e cognome Alberto Fazzinato, professione Tenore.